Fedez ricoverato in ospedale per un'emorragia interna, lo sfogo sui social Fedez ha condiviso sui social diverse stories in cui si mostra in un letto d'ospedale. Stando a ciò che ha raccontato il rapper, è stato ricoverato a causa di un'emorragia interna. Ecco cosa è successo Con una storia su Instagram, Fedez ha rivelato ai followers di essere stato nuovamente ricoverato in ospedale, a causa di un'emorragia interna Nelle stories successive, il rapper ha ringraziato i medici del Policlinico di Milano per essersi presi cura di lui e aver capito in tempo cosa stava succedendo Fedez ricoverato in ospedale per un'emorragia interna, ecco come sta ora Notte turbolenta per Fedez, l'ex marito di Chiara Ferragni, infatti, è stato ricoverato nuovamente in ospedale per un'emorragia interna Su Instagram, Fedez ha condiviso uno scatto in cui è ritratto disteso in un letto del Policlinico di Milano e in cui scherza citando la canzone Another One di DJ Khaled Solo fino a poche ore fa, il rapper si era mostrato al lavoro e sembrava procedere tutto per il meglio, ma a distanza di un mese dall'ultimo ricovero in ospedale, Fedez è tornato a star male A metà giugno, infatti, si era assentato su social per qualche giorno, per poi riapparire e raccontare di essere stato ricoverato per problemi di salute La sua condizione lo aveva portato a un periodo di riposo, che non gli aveva permesso di esibirsi al Team Summits, evento per cui era atteso insieme a Amy Schilla Nelle stories Instagram, Fedez ha fatto riferimento al precedente ricovero, dichiarando sono tipo DJ Khaled quando dice Another One, ma con le emorragie in interno e mostrandosi con una mano a coprire il volto, mentre con l'altra fa il segno della vittoria, disteso in un letto d'ospedale Nelle stories successive ha poi pubblicato un frammento di un nuovo pezzo a cui stava lavorando e che ironicamente parlava di buchi allo stomaco e ancora un ringraziamento ai medici del Policlinico di Milano per aver compreso cosa stava succedendo Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna Fedez in ospedale, la frecciatina lanciata sui social non passa inosservata Tuttavia, neppure l'emorragia interna che lo ha costretto a un ricovero forzato e improvviso ha spento la vena polemica di Fedez Dopo aver ringraziato i medici per il loro aiuto e professionalità, il rapper ha lanciato una frecciatina in un'altra storia Instagram che ha lasciato perplessi e dubbiosi. A chi si stava riferendo Nel messaggio postato su Instagram, Fedez dichiara che alcune persone è meglio perderle che trovarle, soprattutto, se in certe circostanze È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle Non è chiaro a chi faccia riferimento il rapper, potrebbe trattarsi di una frecciatina a qualcuno a lui molto vicino, ma che è venuto meno in queste ore per lui così difficili Quando a ottobre del 2023 venne ricoverato per un'ulcera che gli richiese oltre una settimana di permanenza in ospedale e diverse trasfusioni, Fedez poteva contare sulla presenza di Chiara Ferragni, che ringraziò con un tenero post Grazie a tutti